Buonasera, auguri di buon Natale a tutti. Benvenuti alla Domenica Sportiva, questa sera vi proponiamo una trasmissione diversa, dal solito non rispetteremo l'abituale scaletta che parte dal calcio e si propaga nelle altre discipline sportive rispettando quella che è la cronaca della giornata. Noi questa sera ci occuperemo di sport alternativi, realtà sul territorio che hanno meno visibilità sui mass media ma che lavorano e meritano di essere conosciute, scoperte. Vorrei iniziare da questo studio così pieno stasera facendovi fare un applauso da tutti i nostri ospiti. Un'autorità dello sport è ospite alla Domenica Sportiva, ve la presentiamo prima degli altri protagonisti di questa trasmissione, il presidente del CONI regionale Enzo Invastaro. Buonasera, anche lei è un'autorità dello sport, nel pattinaggio artistico in particolare, è una campionessa plurititolata. E ci occuperemo di scherma con l'Accademia Scherma Pescara, salutiamo il presidente Luigi Lo Giudice, buonasera. E parleremo di nuoto sincronizzato, conosceremo lo swim team Abruzzo, abbiamo la presidente Katia Damario, buonasera. Futbol americano con Pescara Krebs e Pescara Lobsters, abbiamo Antonio Di Filippo, dirigente con noi, buonasera. E non mancherà il tennis, rappresentato dal circolo tennis Sporting Francavilla, il presidente Francesco Ugolini, buonasera. Buonasera, buon Natale. Parleremo anche di rugby con la squadra del Pescara, Carlo Centofanti è con noi, l'allenatore. Non mancherà il tiro con l'arco, ne parleremo con gli arcieri Anxanon, rappresentati da Domenico Novello, vicepresidente e istruttore di primo livello. Buonasera. Non ci facciamo mancare nulla, c'è anche l'equitazione rappresentata da Elisabetta Giannini, consigliere del circolo ippico abruzzese. Buonasera. E ancora il pattinaggio, parleremo con una campionessa, con Deborah Sbei, ma anche con suo papà, Delfino Sbei, che è presidente dell'ASD Giulianova, pattinaggio. Buonasera. E poi questa splendida carrellata di atleti che ci racconteranno le loro storie di passioni per la disciplina che ciascuno di loro ha scelto di praticare. Ragazzi, un applauso anche a voi. Ci sono anche delle mini e dei mini atleti perché abbiamo veramente dei rappresentanti giovanissimi delle varie discipline. Iniziamo a dare voce al presidente del CONI regionale Enzo Imbastaro. Presidente, quanto sport c'è in Abruzzo? Anche quello che si vede meno. In Abruzzo sono 100.000 i tesserati per le federazioni sportive, che sono 45, le discipline associate che sono 15, senza considerare gli enti di promozione sportiva. Quindi è un numero importantissimo e le federazioni cosiddette, tra virgolette, minori, rivestono un ruolo importantissimo perché tantissime discipline fanno attività con decine e decine di atleti e sono proprio le discipline minori. E quindi un applauso a voi per aver ideato questa giornata riservata alle discipline minori e un imbocca al lupo a loro per il prossimo anno che possiate ottenere i migliori risultati. Bene, grazie per gli auguri che arrivano da un'autorità. Deborah Sbei, sei reduce da uno dei tuoi tanti successi internazionali, un secondo posto ai mondiali? Sì, quest'anno ho disputato per la prima volta i campionati mondiali in Italia, questo era il mio decipo mondiale e sono riuscita ad accenere la medaglia d'argento. Purtroppo ho commesso un lieve errore e quindi forse questo mi ha impedito di raggiungere quella d'oro. Però dopo 15 ore mondiali posso essere più che soddisfatta della mia carriera. Quanti hai vinti di titoli? 15 mondiali. Ma anche altri? Ah ok, più o meno 20 italiani e poi sei europei penso. A verso il conto. È una regina, è una regina. Deborah Sbei, allora iniziamo a conoscere quelle che sono le realtà che abbiamo invitato a questa trasmissione. Iniziamo dalla scherma, l'Accademia Scherma Pescara con il presidente Luigi Lo Giudice. La vostra storia in breve. Sì, innanzitutto grazie di averci invitato perché come dicevi tu per noi non ci sono tante occasioni per farci conoscere, anche se devo dire che la scherma, poi il nostro bigliettino di presentazione è quello di aver contribuito al medagliere olimpionico nella storia in maniera sostanziosa. È giusto presidente, sì. Un ruolo fondamentale quello della scherma. Noi questo lo diciamo sempre perché poi la scherma, penso che adesso sia arrivata a 50 medaglie d'oro e a 125 medaglie olimpioniche. Quindi chiaramente questo è un vanto di tutto il movimento schermistico nazionale del quale appunto noi ci fregiamo di far parte perché la nostra società che è a Pescara e ormai ha la sesta stagione agonistica ha iniziato, partecipa al circuito nazionale della federazione. Per cui gareggiamo a livello interregionale e anche nazionale. Il nostro grande risultato ultimamente è stato quello di aver fatto una doppia promozione con la squadra di sciabola perché nella nostra sala d'armi pratichiamo la sciabola e la spada. L'altra arma della scherma è il fioretto che noi non facciamo e appunto nella sciabola noi abbiamo la squadra in B1 e appunto per il discorso che dicevo prima che la scherma italiana è molto molto competitiva. avere questa squadra in B1 è per noi un vanto e un elemento di attrattiva verso i più piccoli perché chiaramente cerchiamo dall'età di 6 anni di avere con noi bambini e ragazzine per promuovere fino all'età di 9 anni con le cosiddette armi di plastica e poi dall'età di 9-10 anni iniziare a gareggiare. Siamo a Via del Concilio dove è la nostra sala d'armi e quindi lì all'ordine dei nostri istruttori giovani ci prepariamo per queste competizioni con buone soddisfazioni. Complimenti. Sentiamo Amalia. Amalia lo giudice che è un'allieva, un'atleta della categoria cadetti sciabola. Tu sei stata premiata recentemente proprio dal CONI regionale. Sono stata molto onorata e molto contenta di ricevere questo premio perché credo che questo premio compensi tutti i sacrifici e tutto il lavoro che ho fatto per la scherma perché credo che la scherma è uno dei sport che mi dà più emozioni e che mi dà più adrenalina. Quanti sacrifici fa un atleta di scherma già a 14 anni? Allora diciamo allenarsi con costanza nel mio caso tre volte al giorno, tre volte a settimana, lavorare con costanza e con determinazione e cercare di arrivare a dei risultati buoni. Bene, grazie Amalia. Andiamo adesso al nuoto sincronizzato. Swim Team con la presidente Katia Damario. Voi siete una realtà molto recente. Sì, la mia società è il secondo anno che operiamo come Swim Team Abruzzo. Prima facevamo parte di un'altra società. In realtà lavoriamo presso le piscine Elenaia di da circa 20 anni. Quindi abbiamo un bel movimento di circa 60 atlete agoniste più una ventina di ragazze che sono arrivate tardi, si sono avvicinate tardi al nuoto sincronizzato e quindi a livello amatoriale lo fanno così per diletto diciamo. E noi siamo una squadra appunto come dicevo prima agonistica, sia in campo regionale e gareggiamo anche il campo nazionale. Infatti le ragazze che sono qui presenti hanno avuto diverse esperienze nei campionati invernali e nei campionati estivi di nuoto sincronizzato. Giorgia Petrini, che è una delle atlete che rappresentano lo Swim Team, perché si sceglie il nuoto sincronizzato? Beh diciamo che io all'inizio ci avevo iniziato a caso, perché mi stavo iscrivendo al nuoto e mi hanno proposto di fare il nuoto sincronizzato. Però diciamo che non tornerei mai indietro perché è veramente uno sport bellissimo che ti dà tanto, soprattutto ti ripaga tutti i sacrifici che fai. Noi ci alleniamo sei giorni a settimana, tutti i giorni a parte la domenica, cioè due ore e mezza, tre. Quindi diciamo che quando arrivi ai campionati che ti trovi a gareggiare contro atlete della nazionale è un momento molto importante. Nulla ti può ripagare di quello. Bella questa affermazione, Debora. Stiamo parlando dei sacrifici che fanno questi ragazzi che devono conciliare con la scuola, con altri impegni, l'attività agonistica. Anche tu avrai avuto sicuramente agli esordi le stesse esigenze. Come si riesce a fare tutto? Un adolescente viene richiesto di essere un bravo studente, in questo caso anche di essere un bravo attenata. Che cosa ti dà la forza di riuscire a eccellere ovunque? Sicuramente qualsiasi sport fatto a livello agonistico comunque richiede tanti sacrifici, però come dicevano i ragazzi, poi io penso che comunque il lavoro viene sempre ripagato, quindi le soddisfazioni arrivano. Penso che conciliare il tutto vada di pari passo, nel senso che lo sport ti aiuta anche nella vita. Io parlo personalmente, il mio sport comunque richiede anche molta pazienza e il saper accettare le cadute, però bisogna rialzarsi e andare avanti, quindi questo mi aiuta anche nella vita. Presidente, le donne o gli uomini si impegnano di più nello sport a questo livello, a livello giovanile ancora? Adesso le donne. Le donne, questa è una notizia interessante. È una notizia, infatti se vediamo anche i risultati nelle competizioni massime, olimpiadi, campionati europei, campionati mondiali, le donne hanno raggiunto il livello degli uomini a livello di prestazioni massime, ma anche a livello di numeri ci si sta avvicinando. Se pensiamo che solo nel 24 sono state ammesse le donne alle olimpiadi ed erano poche decine di partecipanti, adesso ai giochi olimpici fra donne e uomini c'è una pochissima differenza. Lo sport femminile sta crescendo forse più di quello maschile. È una questione di mentalità, da che cosa parte questo rilancio? Probabilmente dal fatto che sono stati per anni un pochino emarginati dal punto di vista sportivo e adesso si vogliono riprendere. Bene, sentiamo una salita donna, sentiamo le Lobsters, visto che tra poco arriveremo a voi, le Lobsters Arianna Zurrini. Arianna, questo riscatto delle donne avviene anche nella tua ricetta? Sì, concordo perché io sono mamma, lei è mia figlia. Ma davvero, ma complimenti, mamma e figlia nella stessa squadra, le Lobsters parliamo di football americano. Sì, c'è questa voglia di riscattarsi e di sacrifici che se ne fanno tanti, tutti gli atleti e soprattutto io personalmente donna, riesco a conciliare, cerco di conciliare famiglia, quotidianità e anche lo sport. Sì è vero. Chi è che ha trascinato l'altra sul capo di football? Lei. Tu hai trascinato la mamma. Sì, lei aveva intrapreso il flag football, che poi se ne parlerà. Un po' per gioco, un po' per scherzo, mi ha proposto di andare a provare e quindi poi ci siamo appassionate perché anche il clima è molto, l'ambiente è molto di famiglia, molto familiare. Ci siamo trovati subito bene, in armonia con le donne soprattutto, cosa che non è da tutti, non è comune che le donne si coalizzino tra di loro e quindi ci siamo trovati bene in tutto. Complimenti, vedete quante storie si scoprono girando tra questi sport, curiosità tra questi sport, presidente, anzi no presidente, dirigente Antonio Di Filippo dei Cresti e delle Lobsters, vogliamo ricordare che le Lobsters sono campionesse d'Italia, lo sono state qualche anno fa. Sono state campionesse d'Italia nel 2013, hanno vinto il campionato nazionale di football americano femminile nella prima edizione e quest'anno io ho avuto il piacere di allenarle in un progetto insieme alla città di Ferrara, una specie di joint venture tra Pescara e Ferrara, per partecipare allo scorso campionato CIFAF dove siamo arrivati purtroppo vicinissimi alla finale, per un punto non siamo andati in finale. E a proposito del discorso di donne volevo anche spezzare una lancia a favore del marito di Sandro che anche lui è un giocatore che fa parte della squadra, tutta la famiglia coinvolta all'interno del progetto CREMS. Io immagino una discussione in famiglia finisce proprio a... Finisce come in campo, diciamo che c'è parecchio da ridere perché poi è bello partecipare con la vita di famiglia tra una ragazza come Greta, che ha comunque 15 anni e vedere anche le discussioni all'interno della famiglia che in un certo senso si portano in campo ma fondamentalmente perché tutti quanti amici ci si diverte tutti insieme. Come Krebs oltre al progetto della femminile abbiamo la squadra maschile che partecipa al campionato del CIF9 e parteciperà al prossimo campionato che inizierà a febbraio. E da quest'anno abbiamo attivato un progetto per i più piccoli, una scuola flag football che è l'attività di cui parlava prima Arianna, che sarebbe il football americano senza contatto. Abbiamo iniziato da ottobre, abbiamo una decina di ragazzi che sono arrivati, parecchi si sono divertiti, soprattutto all'ultimo evento che è stata la partita genitori figli, e poi ci divertiamo a coinvolgere anche le famiglie. L'abbiamo capito. Sì, sì, è fondamentale perché purtroppo diciamo essendo uno sport minore la sopravvivenza e la visibilità come questa e ti ringraziamo per averci dato la possibilità di diffondere, ecco il messaggio della partecipare alle attività sportive minori rispetto al calcio. C'è anche il presidente Montopoli che volevo coinvolgere. La vostra storia, voi avete più di 30 anni di storia come società. Sì, dal 1982. E in questi anni avete vissuto alti e bassi anche perché non è facile far sopravvivere una squadra di football americano. Sono stati alti e bassi, alla fine nel 1994 hanno dovuto chiudere e poi nel 2007 alcuni ragazzi hanno detto perché non provare e quindi abbiamo detto se si può provare ci riusciamo. E dal 2007 con tantissima fatica giorno dopo giorno ce la facciamo, ci siamo e ci saremo. Bene, questo è un bel attestato di Costanza di Amore per lo Sport, una realtà finita per un periodo poi risorta. Andiamo al Circolo Tennis Sporting Francavilla con il presidente Ugolini, Francesco Ugolini, che proprio in questi giorni ha dato alla stampa una notizia molto importante perché voi ospiterete una manifestazione tra qualche mese. Una manifestazione internazionale, un torneo internazionale, un challenger ATP che vuole far rinascere il Circolo Tennis Francavilla che già in passato ospitava delle manifestazioni internazionali femminili, che era la manifestazione internazionale di tennis più importante in Italia. Noi abbiamo riaperto a giugno dopo un anno di break, il Circolo Tennis è un circolo storico nella sfera tennistica abruzzese e abbiamo riaperto, direi, molto bene sia come scuola tennis, sia per quanto riguarda i giovani che anche chi si è riavvicinato al tennis in età più matura e il nostro sogno è portare uno dei nostri giocatori a partecipare a un torneo internazionale come quello che faremo a fine aprile, prima direzione internazionale d'Italia, si svolgerà questo torneo che ospiterà i più importanti, non giocatori di prima linea, ma i più importanti giocatori di tennis del mondo. Sentiamo uno degli atleti del Circolo Tennis e dello Sport in Francavilla. Andrea Vitullo, tu perché hai scelto di giocare a tennis? Perché è uno sport che mi dà soddisfazioni e per me è molto divertente e mi trovo molto bene con la compagnia e con i maestri. Sentiamo un maestro, c'è il maestro che si chiama? Siamo Marcheggiani, diciamo che da quest'estate sono entrato, il mio titolo, in questa nuova avventura, per me è importantissima e ovviamente stiamo ripartendo dalla base perché poi è un circolo che rinasce da un periodo di attività e quindi abbiamo ripreso con l'attività base della scuola tennis, ovviamente seguendo dei dettami che sono quelli dati dalla federazione che in ogni caso a noi maestri permette di gestire questa attività, gestire la scuola tennis in modo molto importante. Bene, allora ricordiamo appunto che ad aprile ci sarà questo torneo internazionale. Siamo tutti invitati ovviamente ad assistere alle partite in modo tale da conoscere anche da vicino ovviamente tutti quanti ma soprattutto gli amanti del tennis, questi giocatori di prima linea del nostro sport. Bene. Grazie. Dal tennis a rugby con Carlo Centofanti, allenatore del Pescara Rugby, che credo tra le società presenti sia quella più antica, diciamo, insomma con una storia più lunga, perché voi siete nati nel 1968. Sì, poi la cosa bella è che forse sono il meno indicato a raccontare la storia del Pescara Rugby, visto che sto qui da, questo è il secondo anno. Però sì, è una storia lunga, ma non molto diversa dalla storia dei cugini del futbol americano, perché poi anche qui a Pescara ci sono stati dei momenti di crisi, poi insomma in questo momento adesso le cose vanno bene, abbiamo una squadra seniors in serie C e abbiamo una serie di categorie juniors che vanno fino ai bambini di 5-6 anni, quindi anche nel rugby si può cominciare presto e sta prendendo molto piede anche il rugby femminile, visto che parlavamo un attimo fa di rugby femminile. E anche a livello internazionale l'Italia femminile di rugby ha una posizione migliore nel ranking rispetto a quella maschile, quindi fanno anche il loro meglio dei maschi. Voi recentemente avete premiato anche per un'attleta di rugby femminile alla festa dello sport? Sì, a riprova che le donne stanno venendo su, non si offendessero i maschietti, però dovete cercare di reagire a questa situazione. Questa ragazza vogliamo ricordarla? Si, si chiama Michela Iacone, fa parte della nostra società e oltre ovviamente a praticare il rugby è anche una delle ragazze che aiutano nella formazione dei bambini più piccoli. Vogliamo ricordare che questo campionato in serie C sta andando molto bene per voi? Sì, diciamo che l'idea è quella di uscire da questo campionato e andare un po' più su e quindi non lavorare. Come siete in classifica? Siamo primi in classifica, abbiamo vinto sei partite su sei, però insomma adesso aspettiamo che finisca il campionato e poi vediamo, insomma l'obiettivo è quello ovviamente di salire di categoria quest'anno, visto che l'anno scorso abbiamo fallito l'obiettivo negli spariggi finali, quindi quest'anno siamo pronti a... Passiamo al microfono al rugby, è il capitano del pescare rugby Edoardo Fragassi, capitano a vent'anni, da quanto tempo pratichi questa disciplina? Io gioco al rugby dall'età di 11 anni, quindi ormai sono quasi 10 anni. L'anno scorso è stato il mio primo campionato nella categoria seniores, sono stato subito onorato della carica di capitano, nonostante che in squadra la maggior parte dei ragazzi sono miei coetanei, se non addirittura più piccoli, quindi si parla di 19, 20 anni, l'anno scorso addirittura 18. E ci sono comunque una buona parte di squadra che è composta da ragazzi di 30 e anche 40 anni, cioè un nostro pilone sia in senso regbistico che proprio di squadra, di amicizia, che ha compiuto da poco 40 anni. E nonostante tutto è uno di quelli che è in campo, se c'è, fa la differenza, se non c'è, ci manca molto. Debora, a 40 anni si può pattinare ancora, sì? Per te è molto presto, insomma, pensare a questa età, però si possono ottenere risultati? Sì, sì, ovviamente anche il pattinaggio è uno sport che comunque si inizia, insomma, intorno all'età di 5-6 anni, è consigliabile, però si può praticare fino a 40 e passare. C'è ancora l'elasticità muscolare per fare... Sì, ovvio, magari nelle gare, però si può praticare per passare. Edoardo, volevo tornare su di te perché tu sei, visto che si parla di attaccamento allo sport, sei un esempio di costanza perché sei diventato capitano, ma prima che cosa è successo nel tuo percorso d'atleta? Purtroppo ho avuto una brusca interruzione nella carriera, se così si può definire, ho avuto uno stop di quasi due anni di ogni tipo di attività fisica a causa di un infortunio. Sono stato fortunato nella sfortuna perché ho trovato una persona che è riuscita ad aiutarmi nel rimettermi in forma e soprattutto a rimettermi con la testa perché non pensavo di riuscirci, però per fortuna ce l'ho fatta, ma soprattutto ho trovato una squadra che nonostante la mia assenza fisica in campo non aspettava altro che riaccogliermi a braccia aperte quando sono tornato. Quindi sono stato fortunato doppiamente. Complimenti, facciamo un applauso a questa bella storia di Edoardo. Arceri Anxanon, andiamo con il vicepresidente Novello, Domenico Novello, anche voi avete storie di passione, di perseveranza all'interno del vostro gruppo? Nei nostri sport diciamo che la passione è una parte predominante, visto che le risorse sono scarse, quindi dobbiamo per forza compensare con la passione. Senza di questo penso che molte delle nostre, di quelli dei presenti non sarebbero qui. Noi siamo nati nel 2012 come compagnia 39esima in ordine di tempo delle compagnie abruzzesi che sono rimaste in 14, in un territorio dove il tiro con l'arco non è molto diffuso, infatti siamo circa complessivamente sulle 460 persone e rappresentiamo il 2% nazionale. Quindi in Abruzzo il tiro con l'arco è ancora in fase embrionale. Sembra che ultimamente le cose stiano cambiando, stiamo dando un nuovo impulso alla spinta, sarà la passione dei giovani, che noi siamo una giovanissima compagnia. Stiamo provando a cambiare un po', a dare nuovo spazio, interessare i ragazzi, fare nuovi progetti nelle scuole e quindi cercare di formare nuovi atleti. Noi paghiamo lo scotto di non avere una tradizione arceristica alle spalle, quindi manchiamo di persone anziane, personaggi che possono trasmetterci la loro esperienza, ma grazie alla federazione stiamo cercando di compensare distribuendo corsi di approfondimento tecnico. Abbiamo un bel riscontro da parte dei giovani, visto che abbiamo fatto dei progetti nelle scuole e abbiamo avuto la fortuna di portare del trofeo Coni al trofeo Pinocchio i nostri atleti a gareggiare. È stata una bella soddisfazione, speriamo di andare avanti in questa maniera, tutto promette bene. Siamo appena reduci di una gara nazionale, l'abbiamo organizzata a Lanciano domenica scorsa, è stato un grande evento sportivo a cui hanno partecipato oltre 100 atleti provenienti da 6 regioni diverse. È stata una bellissima esperienza, un grandissimo successo a livello organizzativo. C'è stato anche un record nazionale, un record nazionale di squadra. Torre Vecchia è la squadra che attualmente è Arcoludo, Femminile e Master, che erano attuali detentori che hanno battuto il loro record precedente con la nostra soddisfazione. È stata una bellissima cosa. Presidente, dice il Vicepresidente Novello allo stadio embrionale, il tiro con l'arco, come mai? Mancano le strutture in Abruzzo? Guardate che il tiro con l'arco è una delle federazioni più medagliate alle olimpiadi per quanto riguarda l'Italia. Ma in Abruzzo? In Abruzzo è una disciplina che sta facendo dei buoni passi in avanti. Il 2% del nazionale non è poi così poco, perché noi siamo il 2% della popolazione italiana, più o meno. Quindi rispecchiamo più o meno la nostra... E quindi la società di Lanciano, ma non solo quella di Lanciano, sta facendo passi da giganti, sta facendo iniziative di promozione della disciplina nelle scuole. È una disciplina che possono fare tutti, quindi è abbastanza abbordabile. Le attrezzature forse sono un pochino elaborate e costose. complesse da portare, da trasportare, però le società che operano in questa disciplina sono piene di persone di grandissima passione, quindi supereranno anche queste difficoltà e vi auguro veramente di ottenere i risultati che meritate, così come tutti. Come tutti, bene, quindi ormai il Presidente continua a fare gli auguri ed è giusto che sia così in un clima sestoso. Non ha il microfono, diamo il microfono a Delfino Sbai. Volevo dire in merito che oltretutto lo sponsor della nazionale italiana è Abruzzese, la top 87 di Santo Egilio, la vibrata. Grazie, signor Sbai, che tra poco sentiremo proprio come responsabile della sua società. Adesso andiamo ad ascoltare un atleta. Sentiamo Roberto D'Angelo, degli arcieri Anxanon. Roberto, raccontaci la tua storia d'atleta per un giovane, scegliere il tiro con l'arco. Insomma, è una decisione coraggiosa con tanti altri sport più allettare, nel senso più visibili. Sì, io ho iniziato per caso. C'era un mio amico che faceva il corso e mi ha chiesto se volevo venire a provare. Mi sembra ottobre 2014. Da lì, dopo aver finito il corso, è nata questa passione e mi sono andato a allenare tutti i giorni. Ero in cerca di un arco, andavo a cercare dappertutto, chiedere anche altre persone. Allora, a differenza degli altri sport come calcio o sport di gruppo, è uno sport dove c'è molta concentrazione, perché ogni volta che si tira una freccia bisogna tirarla sempre allo stesso modo. E lì, quando non è in conta tanto la tecnica, ma conta più che altro appunto la concentrazione. Allora, passa il microfono alla tua compagna di team, che è Elisabetta Flaminio. Buonasera. Una ragazza, perché si avvicina al tiro con l'arco? Perché non sono mai stata un tipo molto femminile, in realtà, se si può dire così. Quindi bisogna essere mascoline, no? Non credo. No, no, piuttosto da piccola mi piacevano un sacco i film a stampo fantasy, e quindi vedevo gli arcieri combattere. Allora mi sono innamorata e andavo con mio nonno, convinta di voler costruirmi un arco da sola. Poi un giorno, alla fine della seconda media, mio padre torna a casa con un volantino degli arcieri Anxanon, e così ho incontrato Mimmo e tutti gli altri e ho iniziato ad allenarmi. Da allora non ho più smesso. Bene, noi ci lasciamo per... È giusto. Applauso. E adesso ci lasciamo per qualche minuto, per una pausa pubblicitaria, tra poco. E torniamo alla nostra domenica sportiva alternativa. Stiamo parlando di tante discipline, siamo all'equitazione. Conosciamo il circolo ippico-abruzzese con la consigliera Elisabetta Giannini. Noi abbiamo detto prima che il Pescara Regmi è una, forse, la società più antica ospite in questa trasmissione, ma non è così, perché voi avete un'origine datata a 1961. Già nel 1936 si organizzava il concorso ippico Trofeo Città di Chieti allo stadio della Civitella. Nel 1961 è stato creato il circolo ippico abruzzese e già da subito viene riconosciuto come scuola federale nazionale dalla FISE, la Federazione Italiana Sport Equestri. Nel 2001 riceve la qualifica di scuola d'eccellenza per aver ottenuto dei risultati in campo nazionale in tutte le discipline olimpiche e anche nei pony games. L'istruttrice è la dottoressa Maria Daniela Di Bernardo, istruttrice di terzo livello, il presidente è il dottor Stefano De Camillis, mentre per i ragazzi e la scuola base viene eseguita un istruttore di secondo livello. Caratterialmente che cosa si richiede a un giovane atleta che si avvicina all'equitazione? Perché in quel caso non si deve rispondere solo di se stessi, le proprie prestazioni, ma anche di un compagno di avventura che è un cavallo. Esatto, sono come diciamo noi due cuori che si vanno incontro. Sicuramente alla disciplina ci deve essere. E poi ovviamente il rispetto per l'animale e ovviamente stare agli ordini dell'istruttore perché non è facile comunque stare insieme. È uno sport costoso l'equitazione che c'è comunque? Ma solo ad alti livelli. Se si fa a livello base, assolutamente come un qualsiasi altro sport. Un principiante, un esordiente nell'equitazione, a che età comincia? Già a 5-6 anni iniziano con i poni. Con i poni. Quindi con i poni games, giocano, imparano ad avere affiatamento tra i due. E poi con il crescere si passa le prime gare di salto-ostacoli, di dressage, di completo per poi passare ai cavalli a 16 anni e continuare nella carriera agonistica. Ricordiamo che ci sono tre discipline olimpiche. Sì, il dressage, il salto-ostacoli e il completo. Il dressage è una disciplina che prevede l'addestramento del cavallo con dei giudizi a seconda dei movimenti che si fanno. Il salto-ostacoli sono appunto degli ostacoli che sono abbattibili in base al tempo e penalità. Si stila una classifica. Il concorso completo prevede sia il dressage che il salto-ostacoli e in più una terza prova in campagna con degli ostacoli fissi, quindi tronchi, laghetti, sempre con la somma delle penalità e del tempo. Sentiamo queste piccole amazzoni che sono qui. Passiamo il microfono del circolo ippico abruzzese. Allora abbiamo Alessia Rapattoni e Giorgia Rapattoni, due gemelle dolcissime. Allora, tu sei Alessia o Giorgia? Giorgia. Allora, Giorgia, da quanto tempo pratichi questo sport? Quattro anni. Quattro anni, quindi hai stato giovanissima. Perché hai scelto l'equitazione? Perché mio padre faceva monta americana e mia madre monta inglese, quindi già da allora era appassionatissima e poi era anche un po' di mio. Mi piacevano gli animali, in particolare il cavallo. Alessia, tu invece? Io la stessa cosa, perché noi avevamo un cavallo a casa e già da due anni la mamma ci ha fatto fare passeggiate sopra lui. A due anni già? Sul cavallo, non sul pony? Sì, sul cavallo. Lui era bravissimo, ci siamo cresciute insieme. Ma quanto si diventa amici del cavallo? Si crea proprio un rapporto speciale, come se fossi un amico in carne e ossa, un bambino, il pony. In questo caso loro cavalcano il pony ancora. Che rapporto c'hai con il tuo pony? Siete amici? Cioè voi vi capite? Tu capisci se è nervoso, se è tranquillo, riesce ad interpretare lo stato d'animo del cavallo? Lui capisce te? Dipende da come sei tu, se tu sei nervoso il cavallo è nervoso, invece se tu sei tranquillo il cavallo è tranquillo. Ma questo è bellissimo, una simbiosi, un animale amazzo, è bellissimo. Tu invece sei Greta, Greta è ancora più piccolina, quanti anni hai Greta? Otto. Otto anni, da quanto tempo pratichi l'equitazione? Tre. Tre anni. Tu perché ti sei avvicinata a questo sport? Perché da sempre mi piacciono gli animali, in particolare il cavallo. E poi da piccola ho incominciato a avere la passione per i cavalli. Dopo un po' ho incominciato a montare. Mi sono appassionata e poi ho incominciato a montare, ho incominciato a fare le gare. Come vai a le gare? Come te la cavi? Bene. Bene, sei molto coraggiosa, sei forte, non stai mi nulla. Hanno già avuto qualche risultato importante queste tre atlete? Ah, chiedo scusa il microfono. Ai campionati regionali di dressage e di saltostacoli. E in tutti i concorsi che si fanno in zona. Io vorrei far vedere il look. Ti puoi alzare in piedi Greta? Guardiamola perché è deliziosa. Se è possibile con Diego Martelli inquadrare questa giovane amazzo, elegantissima. Questo cos'è? Il completo da gara? Sì, la divisa per le gare insieme al cap, pantaloni bianchi, la giacca con il plastron, gli stivaletti o leghette per i pony, il cap e i guanti. Bellissimo, voglio fare un applauso a Greta. Bravura e stile anche nello sport. E andiamo al pattinaggio con l'ASD Giulianova, il suo presidente Delfino Sbei. Presidente, Deborah Sbei è un'autorità sul territorio, non solo abruzzese, però a Giulianova immagino che sia un elemento trainante per avvicinarsi al pattinaggio. Ma certamente, poi cerchiamo di sfruttare questo elemento anche a livello abruzzese, anche se l'Abruzzo era già una terra di tradizioni per il pattinaggio, ci sono stati altri atleti, la del Vinaccio, che ha vinto anche lei 14 titoli mondiali. Debora è senz'altro stato subito un fenomeno, ecco quella ragazzina lì dell'equitazione dà un po' il cliché di quella che era Debora alla sua età, cioè l'orgoglio, l'eleganza e così via. Ha avuto la fortuna di trovare all'età giusta un grosso allenatore, una grossa allenatrice, Sara Locandro, che gli ha fatto fare certamente il salto di qualità che era necessario. La segue praticamente da tantissimi anni e si è formato un connubio, così come abbiamo detto per gli altri sport, anche il pattinaggio. C'è bisogno di fare un po', come si dice, tutti gli uomini del mondiale. Non si arriva così purtroppo, bisogna fare un'equip di persone all'altezza della situazione e dopodiché si arrivano. Che interesse riscuota in questo momento il pattinaggio da parte dei ragazzi, dei giovani? Ma abbastanza interesse. Adesso diciamo che la federazione è un po' in evoluzione, perché prima di tutto è entrato tra gli sport olimpici e quindi non è poco. Nella prossima Olimpia ci sarà anche una specialità del pattinaggio. Poi, come dicevamo prima, a che età si può smettere? Adesso stanno dando un po' di moda, diciamo, i gruppi. I gruppi sarebbero un po' piccoli, grandi, meglio e così via, in modo tale che chi a una certa età non ha più la forza di fare agonismo, allora si dedica al gruppo, dove è possibile praticare quasi divertendosi anche fino a età molto avanzata. E questo sinceramente, devo dire, ha portato molti nuovi atleti alla federazione e di conseguenza anche soldi, se vogliamo, un giro enorme. Vediamo da qualche anno, quando ci sono i mondiali, che quando arrivano questi gruppi c'è un movimento, anche una disponibilità, diciamo così, di sponsor molto più sostanzioso. Deborah, a quattro anni già praticavi il pattinaggio, sei praticamente nata con le rotelle. Sì, io ho iniziato da piccolina, perché comunque questo sport è sempre piaciuto a mia madre, quindi è lei che mi ha fatto provare... Quindi papà non c'entra nulla, insomma. No, in questa cosa no. Si è appassionato lui dopo, seguendoti. Sì, sì, poi mi hanno sempre seguito, però mi sono avvicinata grazie a mia madre. E sei stata convocata in nazionale a 12 anni già? Sì, diciamo che l'età minima per poter fare gare internazionali è proprio a 12 anni, quindi diciamo che alla minima età ho avuto la possibilità di partecipare già ai campionati europei. Una delle cose più belle che mi regala tuttora questo sport è viaggiare, ed è una cosa che io adoro, che comunque ti permette di conoscere nuovi paesi, tante persone, quindi mi piace molto. Presidente Imbastaro, da questo primo giro di esperienze, di racconti tra i nostri ospiti, che cosa emerge? Emerge un grande movimento in Regione, ma non solo in Regione. Lo sport dilettantistico va avanti con poche risorse, perché la risorsa maggiore è la passione che ci mettono i dirigenti, i tecnici, e anche i genitori che sono la limba vitale del movimento sportivo dilettantistico, perché nelle difficoltà economiche in cui ci troviamo molto spesso l'onere dell'attività sportiva dei bambini e a carico delle famiglie. Quindi le ringrazio. E comunque non sono, lo ripeto spesso, non sono risorse spese mali, anzi sono spese benissimo, perché ogni Euro che si investe sui propri figli e sull'attività dei propri figli, poi ritornerà quando saranno più grandi, perché sicuramente si troveranno meglio nella vita di tutti i giorni. Quindi al di là di quelli che possono essere poi gli eventuali sbocchi agonistici, poi i risultati e quant'altro. Comunque è formativo lo sport. Un esempio importante è che ci sono alcune aziende che ricercano il personale fra coloro che hanno fatto attività sportiva a un certo livello, perché sono più affidabili, sono più sicuri, sono disposti al sacrificio, a collaborare con gli altri e quindi hanno delle caratteristiche che poi per le aziende dove andranno a lavorare si ritroveranno sicuramente bene. Quindi io voglio ringraziare veramente tutti coloro che si adoperano per portare avanti l'attività sportiva con questi giovani. Ai ragazzi dico, se posso, passate questi momenti in modo sereno, divertitevi, senza pensare ai grossi risultati. Questo è un momento di crescita fondamentale per voi. Non tutti purtroppo hanno le caratteristiche per emergere, però vivere questo ambiente, l'ambiente sportivo, è fondamentale per la crescita di ognuno di voi. Poi potreste essere utili come dirigenti, come tecnici, come arbitri, come giudici. Quindi per ognuno c'è spazio nello sport. Quindi vivete serenamente questa disciplina, questo sport che fate, senza battervi per le sconfitte e senza esaltarvi troppo per le vittorie. Bene? Un applauso al Presidente Enzio Inbassaro. Una bella lezione di vita. Io un altro applauso lo vorrei fare ai genitori, perché poco fa il Presidente raccontava come sia importante il contributo dei genitori e qui ce ne sono tanti che non si vedono, che sono dietro le telecamere a accompagnare i loro figli. Un altro attestato di come li assistano, li seguono. Carenze di aiuti economici, come vivono le società a questo dato di fatto purtroppo di essere lasciati a loro stessi per quanto riguarda proprio il mantenersi, il sopravvivere. Sentiamo l'Accademia della Scherma di Pescara con Luigi Lo Giudice, che prima annuiva quando si parlava di mancanza di fondi. Innanzitutto sottoscrivo quello che ha detto il Presidente Inbassaro, perché è così, nel senso del valore educativo e formativo dei ragazzi. Questo noi lo vediamo tutti i giorni per come crescono nel fisico e nello spirito. E chiaramente per la Scherma posso dire anche sotto l'aspetto della disciplina, di stare in pedana, di rispettare le regole e tutto quello che ne consegue. Quindi su questo ho pienamente d'accordo, anche perché per quanto riguarda noi dirigenti, se non ci fosse questo presupposto sarebbe veramente impensabile dedicare un bel po' di tempo per gestire le nostre società e colgo l'occasione ovviamente anche per ringraziare per quanto riguarda il Consiglio Direttivo della società che si prodiga appunto nel portare avanti le nostre attività. Ecco, io non vorrei toccare proprio il tasto del discorso economico, perché sennò rischierei di essere... Non andiamo alla polemica, alla puntata di Natale... Potrei dire che la nostra società si può freggiare del fatto che in tutti questi anni non ha avuto mai una sponsorizzazione, perché chiaramente la scherma è un qualcosa di addetti al settore o comunque di chi la pratica, quindi diciamo che l'appeal per quanto riguarda l'esterno, il pubblico, è ovviamente abbastanza limitato. Però noi ovviamente contiamo sulle nostre forze, sulle iscrizioni, quindi facciamo più un lavoro di promozione, per cui invitiamo a provare l'ibbrezza della stoccata sia nell'arma della sciabola che della spada che si predispone anche per chi vuole iniziare un po' più tardi. Chi ha le sponsorizzazioni, le società presenti? Chi ha o ha avuto sponsorizzazioni? Ah bene, ci sono i Krebs. Noi quest'anno rispetto agli altri anni abbiamo qualche sponsorizzazione in meno purtroppo. Ci siamo dovuti adattare riducendo gli allenamenti a settimana e cercando di ottimizzare poi le risorse a disposizione. Come fonte principale comunque rimane il contributo da parte degli atleti, che quindi pagano... Il contributo sarebbe quindi la retta mensile degli atleti. Esatto, la retta mensile che comunque rimane la fonte principale di ingresso di soldi in cassa, diciamo così. e l'unica cosa che si riesce a fare ad oggi è ottimizzare le risorse, quindi magari le divise si fanno rifatte quest'anno o no, l'anno prossimo, vediamo come fare. Un allenamento a settimana magari sacrificabile al campo, lo si farà in una parte all'aperto e si dedicherà all'atletica in maniera diversa, però diciamo che si cerca sempre comunque di offrire un prodotto di qualità che faccia soprattutto divertire i ragazzi, perché per noi è fondamentale che i ragazzi che vengano a conoscere il football si divertono. E Swim Team? Lo Swim Team come fa a far quadrare i conti? La stessa cosa, il contributo dei genitori è fondamentale, con le loro quote paghiamo lo spazio acqua, noi abbiamo lo spazio acqua, con il loro contributo appunto paghiamo lo spazio acqua e cerchiamo di far... Le tariffe sono accessibili o sono elevate? Insomma... Per quanto riguarda i conti, ecco. Purtroppo noi solo in piscina ci possiamo allenare, quindi per noi la vasca è fondamentale, non possiamo andare... In mare non si può, insomma, anche in inverno. Anche in inverno. Con tutta buona volontà penso un po' di fisica. Quindi come ha detto il collega, cerchiamo di ottimizzare anche noi e di far quadrare i conti. Diciamo che i tasti sono due dolenti, una è la disponibilità alle strutture e l'altra il costo, purtroppo. Sì. Che ultimamente... I posti per l'affitto. Sì, che ultimamente le amministrazioni per far quadrare i loro conti... Alzano. Eviterei. Evitiamo. Tendono ad alzare i costi, non tenendo conto che si tratta di una valenza sociale, dello sport, come abbiamo detto, non di un profitto. E questo è un problema spinoso da tempo, Presidente. Il fatto della diatriba... Sì. Adesso se mi stimolate io vado avanti per tanto tempo. Sì. Proseguiamo. Sintetichiamo. Allora, voglio informare le società che da qualche anno, da due anni, è stata ripristinata la legge 20 della regione Abruzzo. Sì, volevo... Finanziata. Sì, facciamo parlare del Presidente. No, no, volevo dire che grazie al Presidente è stata ripristinata perché era stata interrotta. Allora, il finanziamento. Quanti applausi per il Presidente Imbastaro questa sera. Meditatissimi. Prego, Presidente. Non sono cifre altissime, però sono per le società direttantistiche cifre che possono alleviare un pochino e aiutare a superare le difficoltà. purtroppo, a parte la regione che ha la legge 20 e quindi finanzia lo sport per quanto riguarda i risultati di un certo livello, per l'attività agonistica, per le manifestazioni sportive, per i convegni, insomma, c'è una serie di... Anche noi come Econi, attraverso anche un contributo della regione, ogni anno premiamo 12 atleti, 12 talenti, con una cifra abbastanza consistente che li possa aiutare a continuare. Lei l'ha preso qualche anno fa, adesso ha superato l'età però. Mi raccomando, non mollare perché devi andare alle Olimpite del 2024, eh? Del 2020, cioè. E quindi, effettivamente ci sono queste difficoltà. Tu devi sapere che fino ai primi anni 90 gli impianti sportivi non si pagavano. Adesso tutti gli impianti sportivi si pagano. Quelle più costose sono le piscine perché hanno dei costi alti in quanto c'è il riscaldamento da pagare. Ma tutti gli impianti, anche quelli all'aperto, si pagano ai gestori o agli enti locali che ne sono proprietari. E questo è un grosso problema perché fra l'altro con le cifre che si pagano gli enti locali, io ho fatto anche l'amministratore a Pescara, incassano a Pescara poco più del 15% del costo reale della struttura. Cioè se costa un miliardo la gestione di tutti, un milione la gestione di tutti gli impianti pescaresi, il Comune incassa 150 mila Euro. Nonostante ciò, le tariffe che pagano le società sono importantissime per le società direttantistiche perché a fine anno assommano 3, 4, 5 mila Euro che sono per società che si regolano sul volontariato cifre enormi. Quindi uno degli obiettivi del CONI è cercare di trovare una forma per cercare di alleviare queste spese delle società sportive. Molte stanno cercando di gestire gli impianti sportivi però non sempre ci sono società che possono farlo perché ciò impegna anche dal punto di vista economico almeno inizialmente. Chiediamo al Presidente Ogolini del Circolo Sporting Francavilla visto che si parla di bilanci voi avete ripreso da poco l'attività su chi grava questa ripresa? Chi è che finanzia adesso l'attività del Circolo? Dunque l'attività del nostro sport come di tutti gli sport presenti qui questa sera è finanziata dalla passione di chi pratica lo sport. Ovviamente questa passione trova un limite quando l'attività raggiunge livelli ed impegni molto alti noi ad esempio per quanto riguarda il torneo internazionale abbiamo fortunatamente la partecipazione del Comune di Francavilla al Mare della Regione ovviamente perché quindi quando le cose rimangono diciamo in famiglia probabilmente è sufficiente la passione quando l'atleta migliora o quando si vogliono creare degli eventi più importanti abbiamo bisogno di aiuti che devono arrivare anche dal CONI come arrivano dagli enti il Comune, la Provincia, le Regioni e anche ulteriori facilitazioni per quanto riguarda sia fiscali ma anche per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività quotidiana. Ci lasciamo per qualche istante grande applauso del nostro studio che in questa domenica ha una inconsueta cornice di pubblico e questo ci fa molto piacere perché stiamo parlando di tanti sport avevamo affrontato prima della pubblicità l'aspetto economico le difficoltà per le società di andare avanti senza contributi pubblici i costi dell'affitto delle strutture e c'è il Vice Presidente dell'Arceria Anxanon che avrebbe dei consigli da dare alle istituzioni. Si parlava da prima delle difficoltà di quelle che potrebbero essere eventuali consigli ma io penso che per le città per i posti dove ci sono poche strutture pubbliche spesso le compagnie si devono rifare a dei privati mentre i comuni non riconoscono la possibilità di ridurre i costi comunali tipo tasi IMU quindi riconoscere una scontistica per chi affitta a società sportive questo lo possono fare solo le associazioni sportive che sono titolate di una struttura a questo livello è difficile che ci si arrivi per chi inizia da zero sarebbe una grossa mano di sopravvivenza delle compagnie far sì che quindi chi affitta con canone concordato le strutture a società sportive potesse ridurre i costi comunali almeno quelli. Cosa le pensa il Presidente? Sarebbe una soluzione ottima ma purtroppo ogni comune la vede a modo suo. Si spesso sconta a chi li lascia sfitti quindi diciamo riconosce uno sgravio a chi li lascia fermi non li impegna magari con associazioni in questo caso potrebbe politicamente scegliere di dare il servizio piuttosto che conservare quelli che sono i capitali che sono una scelta politica. Potrebbe essere una buona strada da seguire ognuno però poi nel proprio territorio dovrebbe cercare di lavorare in tal senso il nostro riferimento è la Regione Abruzzo con l'assessore abbiamo un bel rapporto ci sta seguendo, ci sta aiutando e quindi possiamo anche pensare di legiferare in questo senso però poi i comuni sono comunque autonomi certo ognuno dovrebbe fare il lavoro sulla propria comune sul proprio comune comunque abbiamo anche prodotto una prospettiva di soluzione in questa trasmissione ci fa piacere potrei fare un piccolo invito nel senso che abbiamo parlato fino adesso di aiuti che arrivano dal pubblico però magari in Abruzzo abbiamo tante aziende che magari possono cogliere l'occasione di investire, di farsi pubblicità tramite gli sport e quindi aiutare le generazioni anche future in modo diretto e indiretto in modo da poter scegliere non solo scegliere solo tra gli sport più noti poi è tutto fiscalmente detraibile quindi comunque le aziende non andrebbero ad avere degli oneri economici sul proprio bilancio qui ci sono delle aziende molto vicine allo sport adesso non posso fare i nomi però sono poche sono sempre le stesse che ricorrono molti sono insensibili purtroppo è vero sentiamo il rugby andiamo al rugby torniamo all'aspetto caratteriale di cui si parlava prima con il presidente è così utile lo sport dal punto di vista caratteriale per crescere delle eccellenze anche nella vita? assolutamente sì forse io ne sono un esempio nel senso che ero un bambino piccolino e timidino molto bravo a giocare a calcio ma con uno scarso carattere ho iniziato molto presto perché nella mia città si gioca più a rugby che altre cose per fortuna sei a Quilano? con Quilano forse si sente anche dall'accento anche se poi ho fatto un giro lungo per arrivare a Pescara hai un nome importante nel rugby tu? no 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 non credo ci sono nomi ben più importanti hai un nome trascorsi da giocatore sì 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 ho giocato anche se troppo giovane in Serie A poi sono un po' scappato da alcune realtà comunque ho fatto un giro un po' lungo e adesso sto a Pescara dove è nato mio figlio quindi l'obiettivo ovviamente l'abbiamo già detto prima per il resto che il rugby sia uno sport esempio forse per quanto riguarda diciamo che noi lo accostiamo molto alla vita perché è così che funziona cioè si gioca, si corre, si cade ci si rialza, si ricomincia senza possibilmente lamentarsi mai rispettando ovviamente quelle che sono le regole dello sport che sono un po' quelle della vita ecco se giocassimo slealmente al rugby ci faremmo un po' male quindi è importante chi affronta questo sport abbia la capacità di sapersi trattenere quindi di avere una come dire riuscire ad accettare quelle che sono le regole dello sport quando si fa quello si accettano anche quelle che sono le regole della vita credo che questo sia uno degli sport più formativi per quanto riguarda i bimbi ovviamente secondo me qualsiasi sport è bello ed importante l'unica cosa che posso dire in più cioè in più del rugby è che avvicina molte discipline sportive ci stanno tanti elementi dentro una partita di rugby che troviamo in altri sport quindi un giocatore di rugby per me deve saper fare tanti altri sport oltre a quello quindi tante discipline all'interno del rugby questo è interessante Presidente Montopoli anche il football americano può essere un esempio di realtà sportiva? Assolutamente il football americano l'amicizia l'onore la responsabilità l'onestà sono le basi di questo sport perché senza questo non esiste sport noi facciamo il terzo tempo l'altro dirigente lo sa dopo la partita sistematicamente organizziamo l'inverno il tè caldo con i biscotti che le mamme dei ragazzi portano con le altre squadre organizziamo facciamo perché è importante questa cosa non giochiamo al calcio non ci diamo gli insulti e non facciamo cori grazie a e beh quelli sono comunque degli estremismi del calcio non è detto che il calcio non è che il calcio sia tutto cori omofobi eccetera insomma sono gli estremismi che non dovrebbero esistere in nessuno sport Deborah simbolo di realtà sportiva anche il pattinaggio o no? andiamo sul campo un po' diverso no no anche lì comunque c'è rispetto dell'avversario anche se comunque la mia disciplina cioè non comunque gareggio singolarmente non in gruppo però comunque c'è sempre il confronto con altri atleti il rispetto e insomma l'onestà le scorrettezze nelle gare importanti ci sono? no dai diciamo di no magari qualche forse forse nella corsa non lo so però da noi magari da parte dei giudici però non è una scorrettezza è che comunque è un giudizio personale quindi ognuno la vede un po' a suo modo è soggettivo ti sei mai trovata a essere punita ingiustamente dai giudici? no quello no perché comunque ci sono cioè ogni difficoltà ha un suo cioè alla fine della gara ci sono due punteggi uno tecnico che viene dato in base alle difficoltà che un atleta fa e quello comunque ogni difficoltà ha un suo coefficiente e poi invece quello artistico è un po' più soggettivo perché comunque giudica il giudice andrà a valutare se è piaciuta o meno la performance torniamo al circolo ippico abruzzese Elisabetta Giannini come forma caratterialmente l'equitazione? è una bella disciplina bisogna essere ferrei avere tanta volontà e soprattutto non bisogna battersi anche se magari le prime gare non vanno bene e deve essere uno stimolo per fare sempre meglio e le strutture al nord o in altre parti d'Europa ci sono degli impianti al coperto per poter praticare questo sport in inverno in Abruzzo però questo è ancora molto lontano ci sono questo tipo di strutture però si può ci sono? ah ci sono quindi voi non le avete però no quindi le difficoltà anche di queste amazzoni così piccole che se lei non ha il freddo sì però ci teniamo comunque di scaldare i muscoli ci scaldiamo sì sì ci sono queste già delle strutture coperte per ce ne stanno due in provincia di Termo una non funzionante ma una funziona ci si è andata a gareggiare sicuramente e una in provincia di Chieti pure sono strutture impegnative anche dal punto di vista gestionale non è che si può gestire facilmente una struttura del genere quindi c'è un impegno notevole per farlo per realizzarlo e per poi gestirlo e mantenerlo su che area vi muovete? voi avete degli spazi ampi sufficienti per la vostra attività? sì sì per fare lezioni tutti i giorni abbiamo due campi uno per la scuola uno per invece per saltare e fare lezioni con i grandi voi problemi di strutture non ne avete? ma ci arrangiamo con quelle che abbiamo vi arrangiate con quelle che avete beh insomma ci fa piacere che qualcuno non abbia nulla a chiedere di cui lamentarsi presidente Sbei invece per il pattinaggio quali sono prima di tutto le motivazioni proprio caratteriali che dà a livello di formazione caratteriale il pattinaggio cosa dà? ma di solito si parte come un gioco le famiglie si uniscono diciamo unisce uno sport che unisce molto la famiglia seguita molto dai genitori quello che chiedo io suggerisco ai genitori di lasciare che resti un gioco fino a che è possibile di lasciar fare i tecnici quindi di rimanere spettatori come al solito deve essere per qualunque altro sport l'importante è che i ragazzi si impegnino seriamente al massimo delle loro possibilità senza arrivare a subire le pressioni dei genitori chiaramente quando poi ci sono le possibilità fisiche c'è il talento allora lì deve essere per poter andare avanti deve essere gestito in modo diverso non tutte le società sono attrezzate per passare dallo sport dilettantistico a un'attività agonistica e quindi se si vuole andare avanti con serietà si deve fare un qualcosa di diverso io nel 2006 quando ho visto che Deborah aveva il talento per andare avanti ho formato io una società con una decina di persone tutte all'altezza della situazione e abbiamo avuto tanti risultati che non sono solo quelli che ha detto Deborah tanti secondi tanti terzi tanti titoli europei e così via invece per quanto vuole riguarda le strutture il problema è molto più complesso perché sul territorio le strutture sono generalmente di proprietà o dell'amministrazione provinciale tutte le scuole superiori o delle amministrazioni comunali purtroppo sul territorio non c'è una gestione univoca della cosa allora che succede c'è un arraffamento totale di solito diciamo o si rischia questo per cui si va dal sindaco e si prendono certe palestre si va dalla provincia e si prendono altre palestre o dal dirigente scolastico della scuola si prendono altre palestre invece dovrebbe esserci un piano organico a livello comunale tenuto conto poi che ogni sport ha bisogno di un tipo di pavimentazione e quindi organizzare la cosa in modo organico cioè noi del pattinaggio abbiamo bisogno di un parquet di qualcosa di più duro magari la scherma va bene anche un linoleum morbido ecco tanto per fare degli esempi è così di sé quindi chiedo al presidente regionale del FONI di farsi portavoce di questa organizzazione un po' più capillare grazie grazie al presidente Sbei il presidente vuole rispondere ha recepito bene poche parole chiare volevo sentire un allenatore un istruttore Fernando posso arrivare passiamo il microfono facciamo arrivare il microfono all'istruttore del circolo Tani Sporting Fraccavilla Fernando Marcheggiani il discorso dei genitori importanti per sostenere i figli nell'attività sportiva però poi devono avere un ruolo marginale per quanto riguarda i risultati non essere troppo oppressivi per creare dei campioni in famiglia vero? su quello ci conviviamo praticamente tutti i giorni però sta anche a noi cercare di indirizzare i genitori in un determinato modo quindi far capire quali sono i reali valori da perseguire in questa prima fase perché poi si parla di una fase iniziale quindi poi invece se si parla di un discorso di agonismo lì passa un discorso completamente diverso e lì sicuramente è fondamentale come diceva il presidente prima la figura del genitore per supportare tutti i sacrifici che gli atleti devono svolgere in questa parte della loro attività è diffuso questo fenomeno dei genitori che vorrebbero avere dei figli eccellenti come avviene nel calcio diciamo che è cambiato anche un pochino il rapporto nel senso che prima almeno parlo del tennis prima si iniziava a fare un determinato tipo di attività dagli 11 anni in avanti quindi il primo anno per i ragazzi era tutto quanto bellissimo piacevole diciamo non c'erano non c'erano non c'erano pressioni dal secondo anno in avanti il ragazzino si rendeva conto anche di quello che poteva essere la competizione in se per sé però a 12 anni si può gestire in un certo modo adesso si è precocizzato il tutto quindi i ragazzini già a 8 anni hanno questo tipo di approccio a un'attività a tornei con dimensioni di campo perfette per loro però diciamo che vediamo spesso e volentieri i genitori presenti che si aspettano chissà quale cosa da parte loro io ribadisco sempre che dipende in questo caso dalla figura mia di insegnante di maestro far capire cosa vanno a affrontare e quindi diversificare il loro ruolo quindi da un discorso di promozione da un discorso di primo approccio a una fase di agonismo e così in avanti ultima pausa pubblicitaria poi daremo voce agli atleti sugli spalti ultima fase della domenica sportiva edizione di Natale diamo voce agli atleti che non hanno ancora preso la parola nel corso della nostra trasmissione iniziamo dal Pescara Rugby presentati Netti ho 24 anni e gioco nel Pescara Rugby da quanto ne avevo 11 quindi sono già 13 anni che gioco e niente mi sono innamorato di questo sport un po' per caso ho iniziato vedendo un volantino per strada e ho provato un po' per sfida contro me stesso visto che sono sempre stato un po' mingherlino piccolino per la mia età e quindi essendo in rugby sono sport famoso un sport per diciamo per energumeni ho voluto provare e tentare questa sfida e mi sono innamorato diciamo di questo sport con questa logica particolare di avanzare sempre pur dovendo passare la palla indietro di questa pallovale tanto imprevedibile quanto desiderata da ogni giocatore grazie grazie sorvoliamo sul capitano Edoardo Fraganti che già ci ha raccontato la sua storia buonasera Alessio Di Battista sono terza centro della seniors del Pescara Rugby io come l'allenatore sono aquilano ho iniziato a Paganica precisamente dal 2009 al terremoto mi sono trasferito a Pescara dove ho trovato una grande famiglia mi hanno accolto subito alla grande ho trovato non 15 fratelli ma una società di fratelli che mi ha dato un grande benvenuto Rugby è uno sport bisogna portarci i bambini un bellissimo sport e questo è un bel messaggio grazie grazie buonasera a tutti auguri buon Natale sono Ernesto Trozzo sono 19 anni e sono il pilone della squadra l'anno scorso purtroppo abbiamo ciccato la finale abbiamo perso quest'anno per ora siamo primi senza sconfitte speriamo va tutto bene grazie passiamo la parola io sono Giulio dell'Accademia Scherma Pescara ho 10 anni ormai pratico scherma da un anno e mezzo pratico scherma perché penso che sia lo sport adatto a me è come se ci fossero degli sport messi insieme perché in palestra ci si allena anche per atletica leggera per le gambe per gli affondi oltre la pratica leggera poi dobbiamo anche vestirci per fare i propri assalti e allenarsi per le gare buon Natale io sono Gian Paolo ho 10 anni e ho iniziato scherma appena avevo 5 anni e 8 mesi quindi molto presto anche autensico ho provato precisa la scherma io l'ho incontrata appena dovevo compiere 6 anni eravamo a dicembre e non aspettavamo e avevo visto proprio un assalto di Aldo Montano Aldo Montano ti sei innamorato di questa disciplina guardando Aldo Montano poi il giorno dopo avevo visto un volantino per strada e dove dell'accademia proprio dove sono adesso e mi ci sono appassionato ho conosciuto tanti nuovi amici e bravo e adesso sei adesso sono campione nazionale sono campione nazionale secondo campione interregionale complimenti facciamo un applauso a Giulio 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 Gianpaolo ah Gianpaolo allora adesso la storia di Amalia abbiamo già parlato andiamo alle ragazze del nuoto sincronizzato buonasera buonasera a tutti sono con Salvi Chiara ho 18 anni e sono il capitano della squadra di noto sincronizzato della Swim Team e pratico questo sport da 10 anni ormai ed è uno sport come diceva la mia compagna che dà grandissime soddisfazioni e che richiede moltissimo impegno e nell'anno scorso abbiamo ottenuto un grande risultato ai campionati invernali italiani a Verona e poi agli estivi a Savona in cui abbiamo partecipato con il doppio io e lei e con il singolo e diciamo che è stata una bellissima esperienza complimenti complimenti ragazze della Swim Team Pescara Krebs buonasera a tutti sono Domenico Nepaolo ho 18 anni gioco a football americano da praticamente 3 anni è iniziata questa passione con un circolo di amici possiamo dire perché il cugino di un amico di un mio amico porto me e questo mio amico a provare io all'inizio ero molto timido però quando entro in campo mi sento tutt'altra persona e mi sento a mio agio e questo mi ha portato ad essere capitano della prima squadra e essere presente da due anni stabilmente nella selezione nazionale di football americano complimenti c'è un baby football ciao sono Roberto ho 7 anni pratico flag football da due mesi ah quindi sei giovane e giovane di questa disciplina complimenti complimenti a Roberto buonasera sono Greta Quintigliani e faccio parte della squadra femminile di football americano Lobsters Pescara gioco a questo sport da circa due anni e mi sono appassionata partendo prima dal flag e mio padre diciamo mi ha fatto scoprire questo sport a sorpresa un giorno mi ha preso e mi ha trascinato qui così e da lì ho deciso di intraprendere questo sport e di portarlo avanti e quindi poi mi sono appassionata complimenti hai portato anche la mamma ricordiamo hai portato anche la mamma sul campo di football noi siamo in direttura d'arrivo Deborah Sbet ti identifichi un po' nelle storie di questi ragazzi di qualcuno di loro ricordando i tuoi esordi sì certo anch'io comunque da tantissimi anni che pratico questo sport e a parte un periodo di stop forzato diciamo a causa di un infortunio non ho mai smesso di praticarlo quindi poi vabbè ognuno ha la propria storia e vita sportiva però sì mi ci ritrovo molto vogliamo fare un applauso a Deborah Sbet che è una grande campionessa un valto per l'Abruzzo Presidente in Bastaro forse il messaggio più importante più bello l'invito a praticare sport arriva proprio dalle storie di questi atleti sono loro che parlano con i loro cuori adesso è molto più semplice fare sport rispetto a quando ero ragazzo io quando ero ragazzo io tanti tanti anni fa da parte di alcune famiglie c'era anche l'opposizione fare sport specialmente delle donne per le donne era un momento per uscire di casa andare al palazzetto a fare sport o al campo di atletica a fare atletica adesso le cose sono radicalmente cambiate sono le famiglie che spingono i ragazzi a fare sport seguiteli però fino alla maggior età perché c'è un calo di ragazzi che fanno sport da 14 anni a 17 anni che è l'età più a rischio è l'età dove bisogna stare il più possibile dietro ai ragazzi sappiamo i motivi perché quindi un impegno forte a che poi c'è una ripresa dopo i 18 anni ma da 14 a 17 anni c'è un calo di ragazzi che fanno sport quindi ragazzi cercate di convincere i vostri coetanei i vostri amici a fare sport perché sicuramente già l'ho detto crescerete meglio e vi troverete bene poi nel proseguo della vostra della vostra vita di tutti i giorni vi faccio veramente tanti auguri per le prossime festività che il 2017 vi porti tante soddisfazioni a tutti grazie e con questo augurio che merda l'applauso del nostro studio noi ci partiamo un ringraziamento a Diego Martelli Massimo Pacillo alle telecamere a Dino D'Angelo in regia un ringraziamento a tutte le società che hanno partecipato ai dirigenti che adesso non elenchiamo uno per uno ma ringraziamo le società Accademia Scherma Pescara Pescara Rugby Arceri Anxanon Swim Team Abruzzo Circolo Ippico Abruzzese Football Pescara Krebs e Pescara Lobsters Circolo Tennis Sport in Francavilla ASD Giulianova Pattinaggio grazie a tutti voi per la stessa un'altra un forte in bocca al lupo per i vostri percorsi sportivi e noi ringraziamo tutti voi da casa che ci avete seguito vi auguriamo Buon Natale e un felice 2017 il nostro augurio lo rafforziamo con questo applauso Arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.